delitto anastasia sentenza del gastolo per il marito che la uccise con 29 coltellate violenza sessuale in pieno centro a pesaro resta in carcere un trentenne bengalese dramma valle foglia anziano saccascia e muore d'infarto prima di entrare al bar danni da maltempo cavalcavia di collegamento pesaro fano riaperto in un unico senso di marcia la prevenzione al tumore al seno diventa uno spettacolo teatrale in favore di ante benvenuti al nostro telegiornale rossini news oggi è martedì 22 ottobre apriamo questa edizione parlando di cronaca giudiziaria perché oggi a quasi due anni dall'uccisione a fano della giovane ucraina anastasia è arrivata la sentenza di ergastolo a carico del marito mostafa alasceri allora vediamo il nostro primo servizio direttamente dal tribunale di pesaro ergastolo rimozione della potestà genitoriale e 300 mila euro di risarcimento nei confronti del figlio minorenne questa la sentenza in primo grado emessa dalla corte d'assisi del tribunale di pesaro nei confronti di mostafa alasceri per l'omicidio di anastasia uccisa con 29 coltellate nella mattinata del 13 novembre 2022 una sentenza che gli avvocati della parte civile giudicano giusta seppur da un processo simile non vinca nessuno sono state riconosciute l'aggravante questo era determinante affinché venisse applicato l'ergastolo perciò quindi sulla pena siamo siamo molto soddisfatti sul risarcimento hanno riconosciuto una cifra decisamente inferiore rispetto a quella che avevamo richiesto tuttavia è comprensibile appunto come dicevo prima era una era un risarcimento simbolico e perciò sarà anche di difficile in realtà recupero si parlava si è detto in questo processo in un processo simile non vince nessuno no non vince nessuno perché la pena è giusta e appunto da onore alla vittima tuttavia abbiamo un bambino che non ha più genitori è stato sollevato anche dalla potestà genitoriale questo è un passaggio fondamentale della sentenza non poteva essere diversamente in realtà quindi anche su questo siamo soddisfatti il bambino vive in ucraina dai nonni è stato adottato quindi per lui la sua mamma il suo papà attualmente sono sono i nonni sta bene però è un bambino che non ha più i genitori quindi ecco insomma è una sentenza giusta ma è una sentenza che non da in realtà non vince nessuno la difesa annuncia già che farà ricorso non comprendendo le motivazioni che hanno portato l'ergastolo scaturito in seguito alla convalida delle aggravanti dovremmo capire sulla base di quali elementi la corte assise ha ritenuto escluderle ritengo che sia una sentenza dettata anche dall'onda emotiva del momento vedremo un attimo quelle che sono le motivazioni che ha utilizzato la corte assise per vedere confermato parte dell'impianto accusatorio del e soprattutto agli maltrattamenti che onestamente io almeno dalla lettura di quelli che sono gli atti non non si ravvisano però io rispetto lo generale del lavoro della corte assise e il nostro dovere logicamente abbiamo gli strumenti per poter impugnare la decisione della corte assise se lo faremo con la massima serenità. La prima cosa è capire un attimo se esiste l'aggravanti se esistono delle aggravanti dell'omicidio oppure il fatto che determinati omicidi avvengono in un contesto familiare con fronte della donna rappresenta di per sé questo un aggravante perché ripeto da quello che è emerso dalla struttura dibattimentale onestamente non mi spiego come non siano state riconosciute quantomeno le attenuanti in generica. E sempre nel tribunale di Pesaro è attesa per giovedì la convalida dell'arresto di un trentenne originario del Bangladesh colpevole di uno sconcertante episodio di violenza sessuale in pieno centro a Pesaro. Prima l'ha minacciata con un coltello alla fermata dell'autobus, poi l'ha trascinata verso il bagno nel retro del chiosco della piadineria per gettarla a terra con l'intento di consumare una violenza sessuale. Tutto questo è avvenuto in un pieno centro storico a Pesaro in piazzale Matteotti. L'episodio si è verificato intorno alle 5 della mattina di lunedì. L'aggressione sarebbe stata condotta da un trentenne originario del Bangladesh residente nella città di Vallefoglia, ai danni di una donna di origini sudamericane intorno ai 45 anni d'età. Quest'ultima, nel tentativo di liberarsi dalle violenze dell'uomo, avrebbe iniziato a urlare e a chiedere aiuto. Così alcuni residenti della zona, sentendo le grida della donna, hanno contattato i carabinieri, che giunti sul posto hanno intercettato l'uomo ancora intento a forzare un atto sessuale con lei, che però, grazie all'intervento dei militari, non è riuscito a consumare. Ora è accusato di violenza sessuale ed è stato arrestato in non fragranza di reato. E all'indomani di questo episodio di violenza nei giardini adiacenti allo stesso piazzale Matteotti, questa mattina è apparso uno scenario di decine di bottiglie di birra abbandonate sul suolo a due passi da opere d'arte, a testimoniare tracce di bivacchi molesti consumatisi nella notte. Ringraziamo quindi Daniele, nostro telespettatore, che ci ha inviato queste immagini e vi ricordiamo il nostro numero whatsapp dedicato alle segnalazioni 370-366-7210. Ed ora ci spostiamo a Vallefoglia ed esattamente a Morciola, perché un uomo di 74 anni è morto in seguito ad un malore, accasciandosi sul marciapiede di fronte all'ingresso dell'Astra Caffè di Via Nazionale. L'episodio avvenuto alle 7 di mattina si è tenuto sotto gli occhi di alcuni frequentatori del bar, che hanno visto l'uomo parcheggiare l'auto e collassare poco prima di entrare nel locale. Immediata è stata l'allerta ai soccorsi, con il 118 intervenuto prontamente, ma l'uomo è stato colto da un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. Il 74enne risiedeva a Montefabbri ed era un abituale frequentatore dell'Astra Caffè. Ore di apprensione per il 52enne ex portiere della Vispesaro Roberto De Julis, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Ancona in seguito ad un'emorragia cerebrale, che lo ha colpito ieri mattina mentre era solo in casa nella sua abitazione in zona Miralfiore. L'allarma è stato lanciato dai colleghi di lavoro che non lo hanno visto arrivare in azienda. A soccorrerlo per primo è stato un amico nonché vicino di casa. L'episodio ha colpito emotivamente il popolo dei tifosi della Vispesaro, di cui De Julis, terramano d'origine, è stato uomo simbolo per cinque campionati a inizio anni 2000, restando poi a vivere definitivamente in città. Dopo due giorni di chiusura a causa del maltempo è stato riaperto il cavalcaferrovia sulla Statale 16, fra la zona mare di Pesaro e la zona sottomonte, in un unico senso di marcia in direzione Pesaro-Fano. Le frane registrate sull'ardizio al momento costringono al ristringimento della carreggiata e a deviare il traffico Fano-Pesaro su via Colbe. Ardizio, che come si vede da queste immagini, mostra ancora una lunga scia di fango lungo i margini della carreggiata della stessa strada statale. Valefoglia si conferma il terzo comune più popoloso della provincia di Pesaro e Urbino, dopo che la scorsa settimana ha superato la soglia dei 15 mila abitanti. Secondo il sindaco Palmiro, Ucchielli è un incremento demografico che corre parallelo alla crescita dei servizi presenti in città. Valefoglia è in fortissima crescita, ho visto che Urbino è sui 14 mila, noi siamo oltre i 15 mila in crescita. Sto raccogliendo i dati anche di questo anno, ho visto c'è un calo del 3-4% delle nascite a livello nazionale, noi siamo in controtendenza anche su questo, quindi è estremamente importante la città di immigrati, di persone che fanno 3-4-5-6 figli, come era una volta anche nelle tradizioni nostre, e che ci consente di avere coppie giovani che lavorano, che trovano i servizi ed è per noi molto importante. E poi diciamo anche un occhio attento alla prevenzione dei fenomeni idrogeologici. Ho fatto una riunione un'altra mattina, tutti i sindaci di questo comprensorio, il coinvolgimento dell'ANAS, del Consorzio di Bonifica, del Ministero dell'Ambiente, l'assessorato regionale all'ambiente, la regione, per cercare di prevenire tutti i fenomeni facendo una buona manutenzione idraulica del territorio, facendo la potatura delle piante, raccogliendo le piante che sono pericolose, possono istruire il corso dei fiumi, dei fossi, che possono in molti casi, come si è visto in Emilia Romagna, che portare via qualche ponte. Quindi ecco, meglio prevenire sempre i fenomeni, e quindi siamo una città molto viva, molto vivace, in crescita, con un'attenzione forte per venire tutti i fenomeni che possono arrecare danni alla nostra città, alla nostra comunità, alle nostre persone. Ed ora cambiamo argomento perché risultano infrenate i casi di contagio da dengue nella provincia di Pesaro Urbino, ma la tematica è stata oggetto di discussione dell'odierno consiglio regionale, in cui l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha annunciato l'adozione di un piano di prevenzione regionale che per la prossima primavera punta a coordinarsi con i comuni per un programma di disinfestazioni preventive alla proliferazione della zanzara tigre. E restando in tema di prevenzione, ottobre il mese dedicato a quella dei tumori al seno, una tematica di salute che diventa uno spettacolo teatrale, il cui incasso sarà interamente devoluto all'ant del territorio. Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione al tumore al seno, un'occasione che le comune di Vallefoglia omaggia con Intrecci Rosa, spettacolo che misce la narrazione danza portando l'esperienza personale di lotta al cancro della scrittrice Von Pagliari in una rappresentazione emozionale che si trarà venerdì 25 ottobre al Teatro Santi di Bottega. Uno spettacolo a ingresso gratuito ma con possibilità di offerta libera da devolvere all'Associazione Nazionale Tumori. Sono due mondi che si incontrano, la danza e la scrittura, soprattutto sono due passioni. Ci siamo ritrovate in questo nostro mondo per poter parlare in maniera molto diversa di cancro al seno. Lo faremo in un modo tutto nostro, con il linguaggio del corpo e anche delle parole. Sarà uno spettacolo ma io preferisco e lo ripeto sarà un'esperienza emozionale dove ogni donna si riconoscerà nelle varie fasi che racconteremo e ogni persona potrà godere della bellezza del movimento del corpo a raccontare tutte le varie emozioni. Ottobre è, come si sa, il mese della prevenzione del tumore al seno. Il mese in cui tutto il mondo attua anche delle campagne di sensibilizzazione proprio per la prevenzione di questo tipo di tumore che ogni anno colpisce sempre più donne. Il Comune di Vallefoglia ha accolto con molto entusiasmo la proposta di Ivonne Pagliari e di Lisa Vergoni. Hanno deciso di mettere insieme le loro arti per raccontare l'esperienza sia della malattia ma soprattutto per generare in chi vi partecipa tante emozioni, anche contrastanti ma soprattutto di speranza. Prevenire i fenomeni di ogni genere, soprattutto quelli di tutela della salute, è veramente fondamentale, straordinario. Quindi informare, educare e poi insomma un taglio anche dal punto di vista delle donne, della costruzione della città a misura di donne ed un nuovo protagonismo delle donne. Si potrà prenotare il biglietto al numero 347 51 48 48 4 e si potrà ritirare il biglietto presso il teatro Giovanni Santi il giovedì 24 dalle 18 alle 20 oppure il giorno dello spettacolo, quindi 25 ottobre. È importante ricordare che l'offerta che le persone faranno per questo evento andrà totalmente devoluta ad ANT, Assistenza Nazionale Tumori del nostro territorio, perché questa associazione sta facendo la differenza nel nostro territorio. Alla diga di Mercatale di Sasso Corvaro si sono concluse le operazioni di svaso cominciate a inizio ottobre che hanno portato a un'incontrollata moria di pesci con tanto di indagine per disastro ambientale. Operazioni concluse ieri con le paratoie che verranno lasciate sollevate fino alla prossima primavera. Il Consorzio di Bonifica delle Marche comunica che il prossimo anno prevede di riuscire a realizzare lo sfangamento della diga, evitando così l'apertura delle paratoie e i rischi per la fauna ittica che ne conseguono. Lo sfangamento consentirà di garantire una maggiore disponibilità d'acqua destinata ad irrigazione ed ad uso potabile e idroelettrico. Pesaro protagonista agli stati generali delle città intelligenti tenutisi in questi giorni a Padova. Nell'occasione l'assessore Francesca Frenquellucci ha ricevuto il premio City Vision per il percorso intrapreso dall'esperienza della Casa delle Tecnologie Emergenti, capace di unire percorsi culturali a innovazione e sostenibilità. Salvare una vita non è solo il mestiere dei supereroi. Questo il titolo della prima conviviale dell'anno 2024-2025 per il Lions Club Pesaro della Rovere, tenutasi a casa poderosa e curata per l'occasione da Lorenzo Rossini e Susanna Maria Scipi di Admo Marche Nord. I due relatori, che sono una copia anche nella vita, hanno raccontato la loro storia di dono e rinascita, intrecciata fortemente con l'associazione donatori di Midollo Osseo. Nell'occasione è stato anche dato il benvenuto a due nuove socie del Lions Club Pesaro della Rovere, vale a dire Anna Maria Mattioli e Maria Reosaria Squillaccioti. Cambiamo di nuovo argomento perché il cicloturismo continua a crescere nell'entroterra pesarese, che ora punta a promuoversi a livello nazionale, con una squadra di cicliste influencer, pronte a documentare quanto di bello c'è sulle nostre colline e quanto di buono c'è invece sulle nostre tavole. Sette cicliste influencer sono pronte a pedalare lungo le strade della ciclovia penninica Alte Marche, promuovendo i nove comuni legati al percorso e le loro gustose tipicità. Si partirà dalla Fiera del Tartufo di Acqualagni e si arriverà a Frontone, passando per Apecchio, Arcevia, Cagli, Cantiano, Piobico, Sassoferrato e Serra Sant'Abbondio. Questo è il progetto ciclovia delle Gusto che dal 24 al 27 ottobre si riproporrà per il secondo anno con ore di pedalata alternate a momenti conviviali dedicati ai prodotti tipici del territorio e alla loro conseguente promozione attraverso i canali social delle influencer su pedali Silvia Gottardi, Linda Ronzoni, Ilaria Fiorillo, Chiara Orzino, Giussi Parisi, Fiore Baratti e Veronica Sant'Andrea accompagnate nell'occasione dallo chef Davide Moioli. È un binomio praticamente perfetto perché dopo una bella pedalata, dopo una faticata nelle salite del Monte Catra, del Monte Nerone e comunque dei territori delle Alte Marche, chiaramente non può mancare quello che è un buon piatto di pasta, una crescia, una marena, un cavallo o non so cosa. Rosa ha caratterizzato l'estate delle Alte Marche con la partenza del Giro d'Italia femminile Woman e quindi continua la promozione in Rosa nel territorio delle Alte Marche. Il progetto parte giustamente giovedì sera quando arriveranno queste ragazze, sono delle blogger che gireranno praticamente su questa ciclovia per i successivi tre giorni. È un giro che deve permettere praticamente alle influencer che sono delle ragazze che arrivano da Milano, arrivano da Bologna, che hanno tantissimi follower che devono permettere diciamo di conoscere questo territorio non soltanto per andare in bicicletta ma anche per fermarsi ed assaporare quelli che sono i nostri prodotti tipici e entrare anche nei nostri ristoranti. Credo che una delle filosofie più importanti è quella che segue il brand Alte Marche che ha promosso questa iniziativa e grazie anche a aver vinto questo piccolo bando che ci ha permesso di riproporre la ciclovia del gusto per il secondo anno consecutivo. E concludiamo quest'edizione del nostro telegiornale parlando di sport, in modo particolare di motori. È ai titoli di coda il 2024 del giovane pilota pesarese di automobilismo Diego Di Fabio che nel campionato italiano Gran Turismo si è tolto lo sfizio di vincere su Ferrari nel Tempio della Velocità di Monza. Ascoltiamolo. Dategli un volante, qualunque esso sia, e vedrete che saprà tirarci fuori qualcosa di buono, probabilmente un podio. È successo su Lamborghini, su Lotus e in quest'ottobre pure al volante della Ferrari con il successo del 21enne pesarese Diego Di Fabio nel Tempio della Velocità di Monza nel campionato Gran Turismo. Un weekend fantastico in quel di Monza, una pista dove non giravo da due anni, che è stata recentemente aggiornata per la Formula 1, quindi sono state cambiate tantissime cose, il cordo lì è stata allargata ed è molto bella, mi sono trovato molto bene, la macchina andava molto bene. Pole position, quindi giro della pole fantastico, siamo andati subito forte e domenica molto bene comunque. Peccato gara 2 che abbiamo rimontato dalla 23esia posizione alla decima, purtroppo una bandiera rossa ha fatto chiudere la gara un po' prima e quindi peccato. Dopo Monza e la Ferrari il mese di ottobre ha rimbalzato Diego Di Fabio a Barcellona su Lamborghini in un cambio continuo di macchine che sta diventando un'importante palestra formativa. È una palestra, è un forte allenamento, però non è facile, è abbastanza complicato perché salto di qua e di là, le macchine sono completamente diverse, ogni volta il primo giro con ogni macchina, il venerdì, mi sento ubriaco, dico che sto guidando, non capisco, poi alla fine mi trovo bene la domenica, il sabato e la domenica. Su Lamborghini sarà anche l'ultimo impegno delle 2024. No, l'ultimo impegno è con la Lamborghini alle finali mondiali Lamborghini in Spagna, nel monomarca Lamborghini europeo, asiatico e nordamericano, a Jerez con la Lamborghini Supertrofeo europeo. Va in archivi un anno positivo con prospettive di ulteriore salto di qualità nel 2025. L'obiettivo è cercare di correre il prossimo anno a gare internazionali più presente, al posto che una gara spotta l'anno, ma essere presente continuamente, fare una stagione completa. Stiamo provando, ci stiamo già lavorando da adesso e le possibilità ci sono, vediamo un po', ci aggiusteremo durante dicembre-gennaio sicuramente. In una Pesaro che appena pochi giorni fa ha inaugurato la statua in memoria di Tonino Benelli, capostipide di un lungo elenco di grandi piloti del motociclismo pesarese, Di Fabio lavora per irrobustire la meno nutrita schiera di rappresentanti delle quattro ruote. Si spera di essere qualcuno di importante, soprattutto in quel di Pesaro, dato che è un gran parterre di piloti, Pesaro, comunque la riviera, di piloti soprattutto due ruote, che quattro, spero di essere uno dei pochi delle quattro ruote di alto livello, come il buon Gianni Morbidelli che ha fatto la storia, soprattutto in Formula 1 o in gara GT di turismo. E allora davvero tanti complimenti al nostro campione Diego e adesso invece restate con noi su Rossini TV perché tra pochissimo alle ore 20 andremo a conoscere il primo degli spazi informativi in collaborazione con CISL, uno spazio molto importante perché vi darà delle indicazioni molto precise. Parleremo questa sera di Sinda Care, ufficio vertenze e contratti della CISL Pesaro e Urbino. In prima serata invece continua il nostro format Cultura, Territorio, Impresa. Questa sera conosceremo Pietro Corrieri, che è titolare del Birificio del Catria e poi Walter Pazzaglia di Crinox SRL alle 21.20. Domani invece vi aspetto con il consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa. E restate con noi perché tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, vi mostreremo un altro trailer degli spettacoli in concorso di questa nuova edizione del GAD, Festival Internazionale d'Arte Drammatica. E allora questa sera vedremo Riccardo Terzo dell'Associazione Culturale Artemisia di Bari, uno spettacolo che sarà in scena, vi ricordiamo, al Teatro Rossini, venerdì 24 ottobre alle ore 21. E vi ricordiamo che tutti i trailer del GAD li potete trovare sulla pagina Facebook GAD Amici della Prosa. Grazie mille e buona serata.